Questo bacio a sorpresa in diretta tv dal conduttore Jean-Michel Maire sul tanto vediamo lo scalzo ah mamma mia no questa voi pazzesco soppica un po è stato investito dalla cameraman e queste sono riprese non della regia internazionale ma della adesso invece è il primo degli umani question is how do democracias respondo scandalo and what will it mean for for the wider region I think one of your children's just walked in I mean shift is shifting shifting sands in the region to the relations with the north may change I would be surprised if they do the um pardon me pardon me my apologies what will it mean for the region my apologies north uh sorry um north korea north south korea's policy choice is on north korea been severely limited oh 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 l'allego il limite e io l'allero sì no Assoglie se enfrenta a los cardenales de san luiz esto el sábado a las 8 E ovviamente il miglior combo di NFL lo abbiamo anche qui i domingos. Io sono Ximena Sánchez, la chica del clima, per lo miglior di Fox Sports. E oggi è il 25th anniversario. Il gioco in 1992. La lottoria è celebrata da offrire in-store eventi e promosioni per commemorare l'evento. Durante l'anno, Powerball ha soldato over 766 milioni di soldi in Idaho. E ci sono stati 5 jackpot in GEM state. Che buona la c***, la accogida che le dieron in mexico. Signore, sono... E siamo preoccupati per il huracan. Liz Taylor è stato giocato da Stalker Channing. E Marlon Brando è stato giocato da... Cedric the Entertainer. All right. We're coming right back. C'è una scoliera che hai... ...conesty di anni... ... la pace si è una scoliera... ...dia e non mi ricordata... ...ci prima mi ritorni qui... ... di l'evento. ... e qui... ... sto sox, devo sentirevi per ilegi... ... e a te2i dimenti... ... mi ricordo di me sono, devi giocare... ... l'evento. ... l'evento da ciao... ... l'evento, sei... E a te2i... ... l'evento, l'evento vissata di giocatore del livello... ... di 3.evento vissata... We were talking to Sam about dancing for the stars and I guess we're supposed to be talking about hold yourself together special Olympics athletes from Abilene to San Angelo who are here in town. You want me to read yours? Okay. Letter F. So F it can be first name, last name. Fiona thinks she's the person with the letter F in your life. Of course. I can't believe I forgot about my dear Fiona. You are the F in my life, Fiona. I can't. The woman is a girl. Look. I'm going to explain to you who is at home. We are watching. We are here. I'm going to explain to you who is at home. He's around here somewhere. Hi. There he goes. Come back, Dan. Hi. Hi, everybody. I'm glad you could drop in, Dan. That's okay. It's the least I could do, right? You know, everybody is disappointed that the work week is over or the weekend is over. But I'll tell you, you know what, the start of your work week is actually going to be off. A sticky situation at an airport in Tennessee after baggage was sprayed with raw sewage. Sprayed? Corn? How did that get on my bag? Okay, too far. Oh, my God. Here's the deal. Here's the deal. Just wait, wait, wait. This is just it. We're on TV. We're on TV. There are people watching. We're not in a private area. Just FYI. Oh, my gosh. Last week, Twitter said guidelines were being updated due to confusion. The company says any users who tweets content. Excuse me. Okay. I'm just kidding. All right. Pulling it together now. It's 537. Good Thursday morning to you. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I can't wait. I can't wait. Just... It's time for the loop. I feel really out of the loop right now. I have tears coming over. Good day. Good day. We have a little problem with the city. A little bit. We'll see you when we start the studio. Camera on the Marius. I love you. I didn't see you. I'm sorry. But... You were not getting off. But I've lost my It to me. You don't know what to do with you. But Iомar. Somebody is watching us today's like trying to massage. The time is good. Everybody else is learning it. Okay. They're giving us any accurate videos. They're making sure. They're working it. So I'm getting into the music. They're sharing them all the time. Jews are перек from us. They're kind. Hai tu le cremo? Hai tu le cremo? Ma hai tu le cremo? Ma ho prima! Ho dva vrenke col Schreiber! E dopo se ti mette questa da vrenke no easy o che ti vivi come... Ti sto lì! Kilometri a l'heure a certi androits allora, vuoi le vedere! Salut! Il collègue Charles che ha fatto tomber qualcosa in studio! E che ha fatto tomber juste avant che entriamo in onda, c'è per il rire anche! Un po' di soleil per domani in debito giorni ma hai tu le voyez pour la Région de Sherbrooke c'est ennuyage graduellement en après-midi pour la Montérégie centre du Québec possibilité d'averse mais surtout en fin de journée et ça reste quand même confortable jusqu'à 20 degrés excusez moi pour Grand Bain Bromisicois exactement le même c'est très variable jusqu'à 20 degrés comme maximum ok Région du Granite même chose c'est assez simple heureusement il n'y a pas grand chose à signaler pour la météo ben j'aurai pas un petit un petit soleil je vous laisse regarder le reste du tableau moi j'aimerais vous aider Valérie mais de vous entendre rire ça me ferait il n'y a pas de problème alors vous le voyez des maximums nettement au-dessus des valeurs de saison vous allez vous din n'y a beaucoup des avant d'씨 .'" Ahahahah! Ahahahah! Oh ma... Sperrò tu? Ahahahahha! Ahahahahha! Ahahahahahahha! Ahahahahha! 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 Tu, come la distanza va a verloren Is it for that? Sì, non scutti... Oh no! Non c'è nessuna, non c'è nessuna, non c'è nessuna. Non c'è nessuna, non c'è nessuna, non c'è nessuna. Non c'è nessuna, 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 non c'è nessuna. I don't want to read it. I want to sit here listen to you laugh. It's much more entertaining.